nome ciao buongiorno saluto e metto più le mani i al sam se questo uo rio ci fa giro giù 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 ok devo sapere che invece non si capisco 1 l 2 l circolare 1 2 qui è architolo 1 2 esco salto questo così no questo e metto un passo così fa muoio un piozzo in giù ecco 1 2 giro il piede a giro giro destra 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 l pan giro 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 tum tum ok poi qui fa come una virgola col piede sam e altro così abbasso non importa come viene questo chiudo davanti questo va dietro pan 1 2 3 4 5 e 6 1 2 saluto e riempio l'altro è tutto questo pum continua questo pum diventa così esatto vediamo lì lui fa pugno pum 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 continua continua o addirittura il tempo che vuoi posizionare lui può proiettare con il misura è impossibile con il misura se posso proiettare se io passo qua allora lo proietto di qua probabilmente è impossibile sentire questo non è perchè lui non mi può spingere mi può spingere ma io sento un'ultima risorsa un'ultima risorsa e poi chiaramente ben usata nella teglia dell'aculatimento non è che viene usata qui non è questo il principio se tu dici buttami ci sta di sì perchè i noni punti devono stare lì a quanticolarmente e forse non mi rimane a niente perchè poi vedo il tempo per la strategia l'importante è l'idea questo ok allora vedi questo lui fa questo questo movimento qui parata praticamente questo parata in là quando lui fa questo 1 1 1 1 1 2 qui parata ad esempio qua da sinistra avanti quindi da qui per un altro cambio da sinistra avanti si no a sinistra va bene cambio da qua stesso principio ma ora ci piaccio questo stesso principio ma ora ci piaccio questo e così via capito? quindi quando io sono qui, questo farebbe, e poi fa così per fermare la gamba uno riprende il chantier, boom, e se la gamba arriva qua, riluppa il senso del chantier ripreso il chantier è il pariceto, uno ripreso, e poi il patricità non ce l'ha tanta, lui tira, si può stare, però perché l'esercizio serve per uno riprendere il pariceto, questo ad esempio, pam, boom, è un po' più facile, ok? ok, ancora, mettiamocelo tutto dentro, ok? sei, uno, due, sessanta, quaranta, piedi lungo, parato, giù, su, uno, due, vicino a me, potrò riuscire a me, questo, 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 apro, porto il peso di mio piede, uno, porto il piede, dietro, dietro, e dietro, cosi, uno, due, tre, quattro, se finisco qui, dietro, augur, Ah! Chi tiene col pitore deve dare un po' presa percorsa verso di lui, non ci deve guardare, è un muro, tanto meno questo. Poi accorgimento importante, lui non può partire quando vuole, deve aspettare col pitore, non so io devo venire dietro a lui, lui deve restare dietro a me. Sampi, una cosa molto importante, se non tanto si fa male, chi tiene col pitore, non è che al ultimo momento o aspetta per il disposto a lei, perché lui tira la legna, perché si lo piglia al ginocchio, i temi per i comiti, non è che cosa vuole, aspetta con questo, volevo fare così, non si può fare, quindi lui deve aspettare a me, quando vede che c'è, non subito, ma quando c'è la cerchietta, lui tira, plum, questo è un allenamento importante, perché? Perché faccio lo sviluppo della precisione e della forza, anche se ti vuoi, il curiosino non si può tirare tutte le cavarata, i pugni si, pugni si può tirare. Poi, sento il contatto, se non posso fare, quindi da tutta la persona, ancora, tum e i, per esempio, se tu non mi diceva già, io vengo male, quindi se tu non ho preso, tu devi cercare gli occhi, c'è anche i secchietti, per quanto possibile, bam, ecco, e qui la legna, bam, poi apri le gambe, e si fa di là, tum, ancora, tum, cercando il progettatore, così via, ok, proviamo, questo, che? tattana, ettimi, al cellulare, questo, di là, cerchietti, il recomando, ok, proviamo, certo? Tattana, su Body,量, Swap, è una v under, mer, atta di lui, bene, riso con il comune, con un, da collecting, trors Psalter,성이 scr陌 con il termine, prima, fare i museri, qui io devo alzare, devo sentire questo, l'importante è che ho questo, uno, due, bravo, check, check, bam, bravo, bene, poi combinato, viene così, piano il calcio, con velocità, no, 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 il calcio è arrivato, eh, eh, questo va bene anche per le aree se il combattimento va per le lute, qui, boom, bam, e finisci, la sua pezzo, ok? ok, 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 ok U, U, I, A, PAM, PAM, ancora, PUM, PAM, PAM, perfetto, ok, laterale, pugno, pugno, PAM, 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 scioltezza, cercare di non funzionare l'energia più del dovuto, perché io sto attenzionando l'energia, qui è per relax, relax, TUM, PAM, eh, qui, TUM, PAM, sto attenzionando l'energia, dopo metti subito un altro pezzo piano, e, TUM, PAM, 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 quindi, TUM, non c'è questo, è questo, come metto l'energia al minimo, come se avessi successo lì quasi, PAM, questo, CONTRA, TUM, PAM, allo piede, TUM, PAM, PAM, TUM, PAM, PAM, ok, questo è il postazione, accocciato, e, lui, ora, non lo fa, e, è un po' di impostamento indietro, ok, PAM, ora qui, se il calcio fosse forte, forte, probabilmente, è un po' di impostamento indietro, perché, almeno, non lo fa, e, è un po' di impostamento indietro, ma qui, PAM, questo, per dire, TUM, PAM, PAM, ok, quindi, io creo su, PAM, no, è vero, è vero, è vero, è vero, PAM, posso un po' di impostare, come se è so, questo, PAM, ti voglio, attivaci, tirati, 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 un po', voluto da, 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 persona, con dei fattori di esercizio, se è, uno, è troppo anticipato la parata, fa la parata, fare troppo prima, al tezza, o, l'ho, anche il postamento, PAM, PAM, TUM, PAM, io mi ora andò a cercare un po' la distanza giusta, quando dire, boom, boom, altro circolato, ah, vedo, pam, 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 c'è questo, qui, questo è l'idea, ok, vediamo, qui, ah, pam, si, però lo spostiamo bene, così, pam, basta solo un po', non importa che è l'idea, quindi, pam, troppo in giù, pam, guardo, pam, e calcio, ok, proviamo, uno diretto, con uno circolare, con uno circolare, spira, diretto, circolare, guarda, i guanti grandi è perfetto, perché posso allenare, capito, uno, pum, via via solo, pum, ancora, due, pum, pum, io mi devo dire, so te con un collino dai guanti, non è che tanto così, no, questo deve essere piegato, questo deve, no, così, perché così mi obbligo da solo, no, se lo viene al collo, no, se lo viene al collo, è, pum, di guanti o pes, pum, così, che ho visto, allora è la delle semplicate, ancora, pum, pum, questo, fia, pum, pum, ancora, pum, pum, e no, pum, 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 e no, chiuso, lui la prova a cacare così, perché io ho questo, lui non mi prende, lui non mi prende, ok, proviamo, da lì, poi, la terra, la lotta, e tutto il resto, qui cambia le protezioni, questo, lui protegge, lo ha fatto fino a uno, qui, chiudi, questo, pum, devi chiudere queste due, ok, ok, ancora, ancora, metti la guardia, ok, chiudi, qua, io riprovo, uno, non succede, questo, ha lo stesso bene, lascia andare, la mia spalla va qui, va, non succede, ok, la spalla va qui, ok, la spalla va qui, ritroviamo, io fa lo sforzo minimo, perché, prima di un piano piano, è l'attaccante, che fa, e io mi provo bene, ora, pum, pum, questo, ma è dato, però, devo fare attenzione, devo scendere le mani su, a volte parlo, e fa questo, non è facile un esempio anche per lui, eh, fa questo, lascia andare la spalla va qua, un po' più qua del nodo, della cintura, e le mani fanno quelli, va, va, qui va giù, lo sforzo minimo, perché io ci ho buttato il peso, non c'è stato bisogno neanche di fare attrazione, ok, ecco, si riprovo, va fatto chiaro o chiaro, dove se un sul plasero va a crescere, vedo, andrò qui, posso tirare un po', ma è una spalla, davvero, tutta il tempo, si cerca di tirare il pan, correttamente, così, ok, proviamo, dai, guarda, che diventa un'altra cosa, ok, andiamo, comunque ora, 1, e 2, ora è girato, questo ci sa bene, perché è girato, se l'avessi fatto con questa, se l'avessi fatto con questa, no, con questa mezza, finchiamo per avanti, ancora, e, pam, tum, scambio, scambio, eh, si, si, pam, tum, pam, pam, tira, ora farei l'altro, ancora, e farei questo, lui tira, e io li muovo così, non devo andare così, ancora, 1, 2, tira, devo cercare il profilo, qui stringo, come quando c'è qua questo, qui stringo, boom, da qui, pam, che va al basso, ecco il profilo, 1, 2, tira, e io, come può, devo avviare questo, qui, boom, e do quello che posso, pam, vedi qua, qui, sotto, sotto, tira, devo abbassare il braccio, e cercate il profilo, pam, e quindi, aconte, tutti, ok, bravo, via, 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 se deve avvenire il frigate, ok, questo comincia avanti, eh, vedi quante applicazioni, ok, si, ma non ci va a pensare, interazione, è importante che l'app Jagj Hou, è sulla parte, è quello che succede, non esiste, di aver Tá Är. video proviamo